e ora no tutti no tutti sa che mi vive a milan a milan a milan si qua è tutto un pareccio viene tutto un movimento gente giusta negozi da sky che dentro viene più gente che lavora che quella che compra una città source che non dorme mai dove che ogni sera inserire qualcosa a far ma mi dir la verità stai così bene sotto le quartine no ma non va bene non va bene no te sei a milan ti puoi fare tante robe source e ti sta qua sul divano a milano bisogna che fai qualcosa si buongiorno è mio guarda su internet i locali più top de milano e vincere al vostro che ne scrivi sul sito esclusivo rooftop bar meneghino cosa vuol dire dov'è terrazza si dice rooftop ah va bene cucina minimale ricercata sarei come nel senso che le portate non sono portate abbondanti e anche nel senso dei componenti non ci sono moltissimi elementi che la compongono ma sono pochi ingredienti che comunque rendono il piatto ricercato in quel senso minimal ti ti va fuori che ti è ancora fan come vabbè posto ideale per sentirti un divo da rivista patinata ma secondo lei è vero ma penso che sia un caffè personale probabilmente si oh posso venire vestiti proprio alla buona come vuole lei non abbiamo nessuno standard posso venire vestiti come un putinot come vuole vabbè fai cosa fai un salt è che allora ecco altri ecco e Grazie a tutti.